Continua la love story tra Stefania Pezzopane e Simona Coccia Colaiuti, ospiti innamoratissimi di Domenica Live e Barbara D'Urso. La senatrice del PD e il suo compagno di 24 anni più giovane escono così definitivamente allo scoperto. L'ex spogliarellista vuole vivere a pieno l'amore con la Pezzopane. Due settimane fa infatti è arrivata in diretta radiofonica a un giorno da pecora la sua proposta di matrimonio, che la senatrice ha accettato con riserva prendendosi un po' di tempo. A Domenica Live però si è lasciata sfuggire un mezzo invito alla padrona di casa Barbara D'Urso. È troppo presto, dice, ma se ci sposeremo tu sarai invitata. Su Facebook e Twitter, come era prevedibile, sono fioccati commenti non proprio accomodanti. Lo spettacolo della senatrice Pezzopane col fidanzato di 24 anni più giovane, ha detto Francesco Storace, ha mandato in tilt la mia televisione. Grazie.